Ciao, ho preso il nuovo album dei Seven O'Clock, questo è il davanti, questo è il retro, oh che bello c'è l'arcomalino, ok, abbiamo le canzoni, è la prima volta che vedo su un album anche i minuti di durata, aiuto ma quante hanno contribuito a fare? Oh, che carino, è tutto blu, che bello, tutto blu, anzi azzurro, azzurro, oh, manchiamo, ah, che bello, che bello, sta benissimo con i cappelli di questo colore, e io, questo comeback mi è piaciuto un sacco, è l'amatoi, aiuto, e mamma mia Ciao, ciao, ciao Oh, che bello questo colore Salmone pesca, vabbè, questo Ma che cosa sono sta roba qua? Oh, bene, vediamo dopo, perché sennò perdo il segno, come sempre, ma che cacchio al collo, cioè ha una bratella al collo, ma che, vabbè Lui è normale, lui è vestito, no, come non detto, non è vestito normale, che è sta cosa, che ha sempre al collo, cioè sta cravatta è orrenda, vabbè, dimmi che almeno tu sei vestito normale? Sì, è vestito normale, ma non ci credo Anche lui è vagamente normale, cioè cos'è sta cosa, cos'è? Eh, mira Eh, vabbè Eh, vabbè Ciao, un è proprio È stato bello conoscerlo Oh, qua abbiamo le conzumi Ah, mi piace un sacco questa Questa, questa, questa è bellissima Sì, sono finito, è già finito Che tristezza Questo photobook è stupendo, no, è veramente bello Sì Ah, qui abbiamo Tutu, no, stickers Sì, ma hanno gli sticker da mille appiccicare sui vesti della macchina Vabbè Poi abbiamo Ah, foto, che Oh, quella di group, che patati Sì, poi è la copertina, più o meno Sì, è la copertina Sì, è la copertina In foto, che Oh, son più Patatino È lui vero, sì Ok Ciao Ciao